ciao a tutti e benvenuti su ideare casa tra i molteplici elettrodomestici che possiamo fornire per corredare una cucina su misura oggi presento il depuratore d'acqua questo depuratore e versione sotto lavello ci sono anche quelli da incasso colonna o quelli sopra top perché utilizzare un depuratore d'acqua la plastica che utilizziamo per le nostre bottiglie d'acqua dal punto di vista ambientale è ormai insostenibile il depuratore ha una funzione fondamentale l'acqua che arriva nelle nostre abitazioni viene depurata e filtrata il filtro ha una capacità di 4000 litri una volta entrata all'interno del depuratore la potete utilizzare a temperatura ambiente grazie al frigo c'è anche la versione refrigerata con la regolazione della temperatura per chi preferisce aggiungendo una bomboletta di co2 che ha una carica per 120 litri d'acqua potrete avere anche l'acqua gasata il depuratore è completo di kit di installazione con tubazioni e giunzioni inoltre grazie alle pratiche istruzioni è possibile installarlo anche da soli altro elemento in kit è un comodo miscelatore a cinque vie nel quale le prime due vie sono dedicate ad acqua fredda e acqua calda le altre tre per acqua depurata temperatura ambiente acqua depurata gasata acqua depurata refrigerata per tutte le informazioni sui depuratori visitate il nostro sito www.idearecasa.com ed i nostri canali social facebook twitter e telegram ciao e al prossimo video